Ristrutturati e rimodernati i campetti di tennis della Villa Comunale a Fiorilia, esempio buono dell'investimento privato nella valorizzazione di un bene pubblico, ormai in stato di degrado. È quello dato dall'AS di Wimbledon, presieduta da Alessandra Basso, e con il tecnico istruttore federale della FIT Federazione Italiana Tennis, Salvo Amenta. Una realtà nata nel 2008 è che negli anni ha acquistato una posizione di prestigio sia a livello provinciale che regionale partecipando a vari campionati di categoria sia giovanile che non. Oggi vanta la squadra in D1, grandi risultati per la piccola realtà locale. Il circolo ha una scuola tennis di tutto rispetto che cresce di anno in anno, dai più piccoli gli Under 8, 10 e 12 che vincono nelle promozionali sia ai campionati Under 12 maschili che femminili. Un pomeriggio soleggiato, quello di domenica 29 marzo, che ha visto l'inaugurazione ufficiale, insieme a rappresentanti sportivi e istituzionali. I dettagli degli interventi effettuati e i ringraziamenti nelle parole dell'istruttore federale, Salvo Amenta. Sono molto contento innanzitutto della vostra presenza. Per me è un banto avere qui oggi il sindaco, l'assessore allo sport del professore Bonanno, l'assessore Rossella di Paola e nonché, come dicevo, il professore Bonanno. Io sono nato qui, ho visto nascere questo campo, l'ho frequentato da allievo, ma ho notato il degrado di questi campi nel corso degli anni. Voi anche perché le amministrazioni comunali passate non avevano l'interesse che ha avuto Orazio Scalorino. Per me è vederlo rinascere ancora molto più bello rispetto a come era prima. Allora ragazzi, fatemi dire, io sono veramente orgoglioso di quello che ho fatto. Molto, molto orgoglioso. E poi sono orgoglioso soprattutto di questi ragazzi. E i vostri figli. Grazie. Cosa hai fatto? Allora, abbiamo ristrutturato tutto il centro. Manto nuovo, illuminazione nuova, glebaus nuova, il verde, non esisteva il verde, il recinto, tutte le reti. Beh, dunque abbiamo fatto un bel lavoro, ma ce ne sono ancora lavori da fare. Come ad esempio la panchetta dove siete voi seduti, purtroppo perché ha piovuto per parecchi giorni e quindi diciamo che la ditta non ha potuto espletare i lavori. La prossima settimana il muro che abbiamo qui di spalle non è stato, diciamo, sistemato, pitturato, non così per caso. Non è stato sistemato perché ci sarà una ditta che adesso lo abbatterà e lo farà praticamente completamente nuovo. Ma prima di finire volevo ringraziare una persona cara, una persona di famiglia, che è stato presente, è stato sempre vicino a noi, a me e a mia moglie, nell'eseguire i lavori. E questo è mio cugnato, il giomota Giuseppe Zappulla. Fate un applauso per piacere. L'impianto sportivo floridiano è stato concesso dall'amministrazione guidata dal primo cittadino, Orazio Scalorino. Quando noi siamo arrivati questi campi erano praticamente abbandonati e quindi insomma dovevamo trovare le risorse per poter investire in questi campi da tennis che comunque hanno sempre rappresentato un punto di riferimento per lo sport floridiano. Insomma, avendo dei conti non a posto l'unica cosa che potevamo fare è quello di fare un bando pubblico a cui Salvo Amenta con la sua società, associazione, ha partecipato e ha vinto. Quindi insomma tutto nella massima trasparenza, nella massima regolarità. Salvo ha fatto un investimento importante, oggi questi campi sono rinati, noi abbiamo fatto quello che fa una pubblica amministrazione, cioè mettere a disposizione una struttura pubblica. Questo è un esempio quando il pubblico collabora col privato e raggiunge appunto dei livelli di eccellenza, perché altrimenti questi campi sarebbero stati abbandonati e quindi insomma non avrebbero avuto questa nuova veste che dà un'opportunità soprattutto ai giovani, perché questi campi diventano nuovamente un punto di riferimento per le nuove generazioni. Abbiamo tentato di fare la stessa cosa con la villa comunale, con le strutture pubbliche della villa comunale. Abbiamo fatto diversi bandi, a volte sono andati deserti, e a quanto pare insomma siamo riusciti ad assegnarli, ultimamente anzi abbiamo fatto il bando, ancora non li abbiamo assegnati, il bando nuovo, mi auguro che a presto insomma possano essere assegnati anche i locali della villa comunale. Noi abbiamo molto investito nell'impiantistica sportiva, tant'è che abbiamo partecipato ad un bando pubblico che la città di Florida ha ottenuto un finanziamento di un milione e centomila euro per la ristrutturazione del campo sportivo e del pallone tensostatico. Io non capivo per quale ragione non venisse decretato da parte della regione il finanziamento. Insomma, sono andato ad informarmi, avevano perso il progetto. Cose strane che accadono purtroppo in Sicilia, lo abbiamo ricomposto, lo abbiamo riformulato, insomma, entro l'anno dovremmo riottenere questo finanziamento per avere un campo in erba sintetica con il pallone tensostatico, insomma, ristrutturato, gli spogliatoi per avere anche in questo caso una struttura di eccellenza. L'impiantistica sportiva l'abbiamo trovata in queste condizioni. Stiamo tentando in tutti i modi tra investimenti pubblici e investimenti pubblico privato di ristrutturarli, di dare una nuova dignità e una nuova veste proprio perché partiamo da questi ragazzi che hanno almeno delle alternative in quanto lo sport per quanto ci riguarda rappresenta un punto importante di riferimento per le giovani generazioni. È un esempio buono questo. Le piace come è venuto? Ma certo, insomma, per come era e per com'è la differenza si nota ed è palese, insomma, l'ha notato tutti quanti voi. Io mi sento, sono legato a Salvo Mente per tante ragioni, insomma, spesso abbiamo anche corso insieme, insomma, abbiamo fatto sport insieme. Questi campi hanno visto tante generazioni crescere qui, qui magari un tempo si giocava a beach volley, insomma, erano un punto di riferimento, un punto di aggregazione e ritengo che oggi ritorneranno ad esserlo grazie a Salvo e all'investimento personale e professionale che ha fatto perché la cosa che mi piace sottolineare è che Salvo Mente è un professionista, non è uno che si inventa dall'oggi al domani e che investe nello sport, è uno che è nato nei campi di pallavolo, nei campi di tennis e oggi quello che ha realizzato è il frutto dell'esperienza di un professionista che è dedicato allo sport se non sbaglio da più di 30 anni. Quindi io vi chiedo di fare un applauso a Salvo Mente perché lo merita come professionista intanto e perché è un esempio da seguire per lo sport floridiano. Io lo dico perché lo conosco da tantissimo tempo quindi non sono parole buttate al vento sono parole che sono meditate ponderate conoscendo Salvo Mente lo conoscete tutti voi altrimenti non affidereste i vostri figli a Salvo Mente. Sui campi anche giocatori di seconda categoria che partecipano al campionato squadre serie A Lele Sammatrice e Antonio Massara. La FIT e la federazione italiana tennis era presente con il tecnico nazionale Nico Di Simone fiduciario Siracusa Ragusa e con il presidente provinciale FIT Adriano Sammatrice col quale il tennis provinciale ha trovato nuovo impulso e in crescita e con cui si è sottolineato che per innanzitutto promuovere il tennis c'è bisogno di nuove strutture. A Siracusa ci sono oltre 19 società affiliate e sono numeri importanti. Io ho accolto la tradizione e il lavoro del mio predecessore Salvatore Cannavò che per tanti anni ha rappresentato la FIT a Siracusa e ha fatto uno splendido lavoro. Dalla mia giovanità diciamo è stato chiaramente primo approccio quello di rivolgermi soprattutto alle categorie giovanili gli under qui oggi salvo nella testimonianza con un gruppo di bambini fantastico. Su questa struttura devo dire che le parole oggi devono essere messe un attimo da parte perché gli occhi da soli bastano per osservare chi è venuto qui qualche mese fa la differenza che c'è oggi in questa struttura. Questo come abbiamo detto poc'anzi chi ha parlato prima di me il sindaco per il lavoro di salvo ma la federazione è stata accanto a lui salvo ieri con me ha incontrato anche il presidente regionale che non è potuto essere qui oggi ma che lo ha voluto salutare personalmente ieri in occasione dell'ITF un torneo internazionale che si è svolto a Solarino questo per testimoniare che in provincia a Siracusa c'è un grande fermento e il tennis sta andando veramente forte. Mi piace dire una cosa che sicuramente poi il maestro Nico De Simone ribadirà in maniera più tecnica quest'anno per la Coppa delle Provincie una manifestazione regionale di grandissima importanza per la prima volta la nostra rappresentativa che è arrivata alla fase regionale figurando benissimo negli incontri contro il Catania e Ragusa aveva con sé tre bambine di questo circolo le gemelline d'amore e Gazze Niliam questo penso sia un grandissimo risultato per il lavoro che svolge salvo tutti i giorni una grandissima soddisfazione per i genitori che sono stati con noi catapultati in una realtà di un'altra dimensione le bambine sono state fantastiche che hanno giocato tra le titolari e questo devo dire non succedeva da diversi anni a Siracusa il tennis era un po' di egemonia tra TC Siracusa e Matchball ma oggi tutti devono fare i conti con tra virgolette con la rivalità nella collaborazione che Salvamenta sta portando avanti quindi un grande applauso a tutti voi commosso l'intervento anche del primo presidente del circolo tennis di Floridia il professor Germania io sono felicissimo di essere qua oggi lo dovevo a salvo che ho visto piccolissimo come diceva lui calcare questi campi nel lontano 1977 commosso quando sono entrato sono venuto un po' prima intorno alle 4.20 e qua c'era un manipolo di ragazzini che correvano per i campi ne ho visto uno che chiamerò forse in maniera impropria Caganino ma a 4 anni bellissimo da vedere e mi sono commosso per me e per alcuni amici alcuni non ci sono più purtroppo che con me nel lontano 1977 condivisero questo piacere di formare il tennis club Floridia ormai scomparso e di portare avanti quello che con altrettanto piacere ho sentito dire al sindaco finalmente a guidare la benedizione è stato padre Garro con parole che hanno sottolineato come i campetti di tennis possono essere non solo un rilancio sportivo ma anche sociale salga a te la nostra lode o padre che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani dai sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero ascolta signore la nostra fiduciosa preghiera perché questi spazi destinati ad attività ricreative accrescano il vigore delle membra e favoriscono la serenità dell'anima fa che tutti gli sportivi sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia e superando ogni forma di violenza provuovano la civiltà dell'amore per Cristo nostro Signore accompagnato dagli applausi del pubblico accorso sulle tribune il taglio del nastro che ha dato così avvio all'impianto sportivo l'invito ultimo è quello lanciato dallo stesso istruttore Salvo Menta domani tutti quanti scarpette tuta e una racchetta in mano tutti a giocare a tennis